Ciao a tutti, io sono Mirko, e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware del Flight Controller Omnibus F4 V3. Aggiornare il firmware di Betaflight è importante per avere accesso a tutte le ultime novità, garantire un volo sempre più stabile e preciso, e risolvere eventuali bug che potevano esserci nelle versioni precedenti. Per prima cosa scarichiamo l'ImpulseRC Driver Fixer cliccando il link che trovate in descrizione. Questo software sostituisce Zadig, automatizzando il processo di installazione dei driver. Dopo aver scaricato il software clicchiamo sull'eseguibile. Adesso colleghiamo il Flight Controller. Dopo qualche secondo vengono installati i driver e il programma si chiuderà automaticamente. Scolleghiamo il Flight Controller e avviamo Betaflight. Ora teniamo premuto il tasto BOOT e colleghiamo la scheda al PC. Come vedete siamo in modalità DFU che ci permette di fare l'upgrade del firmware. Quindi clicchiamo su Firmware Flasher e in questo meno a tendina scegliamo il target. Il target corretto per l'Omnibus F4 V3 è Omnibus F4 SD, quindi lo selezioniamo. Ora scegliamo il firmware, mi raccomando scegliete sempre l'ultima versione disponibile. Abilitiamo No Reboot Sequence e Full Chip Erase. Quindi clicchiamo su Load Firmware Online poi su Flash Firmware. Una volta terminato il processo il firmware è installato, possiamo cliccare su Connetti. Adesso possiamo fare tutte le configurazioni in base ai componenti che abbiamo installato sul nostro quad. Questo è il mio tutorial su come aggiornare il firmware dell'Omnibus F4 V3. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di ho godinibo. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti.